Le solite sitcom dove non ci sono colpi di scena. Amore, mi stai ponendo col marito del pezzinaio! Amore, 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 tesoro, solo che c'è pomodoro! Da oggi su Non Ciclopedia, sul forum c'è Casa Pulpiani, una sitcom alternativa. Guardate che alti piani si possono vedere da Casa Pulpiani. Casa Pulpiani, solo sul forum di Non Ciclopedia, troverete di tutto qui. Sentite, guardate, sesto, droga, droga, rock and roll. Segurato! Sempre qui! Oh no! No, no, non so mane toccato! No, no! Mi fa roi! No! Ero! Non so, mi infinito non so che ho mioamore, sembra 612 o nooo, non voglio morir di sapere! E lega così, ZCE.